Ciao, sono Barbara Russo, titolare del Centro Estetica Eutalia. Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Esteticamente. Oggi parliamo di nutrizione in equilibrio e nello specifico di IPC Method Supplement Body, un integratore alimentare di categoria avanzata in grado di potenziare il risultato estetico delle tecnologie in uso nel nostro centro per l'aumento delle performance estetiche ed il raggiungimento dei risultati concreti. IPC Method si definisce di categoria avanzata perché è composto da più tipologie di fibre, liposolubili e idrosolubili, che limitano l'assorbimento degli zuccheri a livello intestinale, da antiossidanti che insieme agli oligoelementi all'interno della composizione prevengono le infiammazioni intestinali e tutelano l'attività del microbiota, da vitamine che prevengono eventuali deficit energetici aiutano ad aumentare le difese immunitarie e da sali minerali che aiutano al mantenimento energetico. IPC Method si presenta in bustine monodose da 7 grammi, è un prodotto liofilizzato quindi disidratato al gusto di arancia che diluito in 250 ml di acqua si rende immediatamente biodisponibile. Va assunto due volte al giorno, 15 minuti prima dei pasti principali, è totalmente vegano, senza glutine e privo di lattosio. L'integratore è stato creato principalmente per ridurre l'assorbimento degli zuccheri a livello intestinale, migliorando entro 48 ore dall'assunzione il livello degli zuccheri nel sangue. È così che l'individuo che lo assume entra in un processo di calma insulinemica, contrastando immediatamente la fame nervosa. IPC Method inoltre riduce il senso di stanchezza, aumenta l'energia, migliora la resistenza insulinica, quindi risulta adatto anche a chi fa fatica a perdere peso per via dell'insulino resistenza, magari dovuto all'abuso di diete scorrette. Contrasta l'insorgenza di malattie metaboliche come sovrappeso, obesità, ipertensione, diabete di tipo 2 e riduce tutti gli stati di infiammazione cronica. La calma insulinemica si traduce in effetti sull'organismo ed effetti estetici, in quanto otterremo il miglioramento della circolazione, la diminuzione dell'infiammazione dei tessuti, la diminuzione delle cellule grasse e quindi degli adipociti, la diminuzione del peso, la regolarizzazione ormonale, l'aumento dello stato di salute del tessuto connettivo, quindi una diminuzione della cellulite e il mantenimento del collagene, quindi l'ingiovanimento cutaneo. I clienti che acquistano il nostro integratore possono soffrire di un servizio web app gratuito tramite il quale ricevere 4 piani alimentari a basso carico glicemico che sostengono l'attività dell'integratore aiutando a perdere peso più velocemente. Si tratta di piani alimentari normoproteici che contengono tutte e tre le macro categorie di alimenti, e cioè carboidrati, proteine e lipidi, ovvero i grassi. All'interno della confezione dell'integratore il cliente troverà un codice alfanumerico con il quale appunto potrà registrarsi all'interno della piattaforma e ricevere i 4 piani alimentari tramite email. Ecco come un solo prodotto di altissimo livello professionale può migliorare la qualità della vita e le condizioni generali di un individuo. Per maggiori informazioni o per una consulenza gratuita non vi resta che venirci a trovare in via Rosario Livatino numero 70 o contattarci tramite il numero che trovate nelle nostre pagine social. A presto!